buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovissimo video in merito ad android auto allora questo video sarà composto da due parti questa è la prima parte in merito alla applicazione la seconda parte che farà riferimento al vedere in auto tutto quello che succede non so deciderò se montarli insieme o meno dipende dalla lunghezza di entrambi i video allora quindi se vedete questa prima parte e non c'è la seconda parte direttamente collegata fate in modo di vedere la seconda parte così che appunto abbiate una idea completa di quello che è tutto questo video allora innanzitutto parliamo di cose un po generali cioè android auto appunto sappiamo che ha i suoi limiti sappiamo che non è perfetto che ha dei problemi però comunque la community di sviluppatori è sempre impegnata per migliorare questo prodotto appunto questo servizio fornito da google che però molte volte si spinge verso l'illegalità se così possiamo dire cioè non è un'illegalità in senso vero e proprio ma va soltanto ad aggirare dei limiti che google ha imposto voi mi potreste dire sì google li ha imposti per dei motivi abbastanza validi perché per esempio facciamo il caso di kartube che è un'applicazione che è recentemente uscita che permette di avere youtube sulla propria auto senza root sul dispositivo e appunto permette di vedere i video di youtube ad autoferma mentre invece se si ha la versione pro di questa applicazione si può andare a sbloccare anche la funzione dei video in movimento ecco google non permette normalmente di vedere i video di youtube o qualsiasi altra applicazione perché appunto non ritiene giusto che ovviamente si guardino i video in movimento perché sono una distrazione al volante l'infotainment lo è già di suo normalmente però quello resta acceso durante la guida e quindi si possono ricevere soltanto le indicazioni delle mappe altrimenti se si dovesse incorrere in un incidente per ovvi motivi si avrebbe torto anche se si ha ragione perché per esempio qualcuno ci è venuto addosso quindi siamo sempre ai limiti della legalità per poter fare e poter vedere questa cosa quindi sicuramente il consiglio che posso dare da parte mia è che il dispositivo e la funzione vengano utilizzati ad autoferma cioè tutte queste applicazioni che starete per vedere devono essere utilizzate ad autoferma per io faccio il caso in cui voi abbiate una macchina elettrica e state caricando l'auto e quindi per esempio la strega di alla stregua di tesla quindi in modo molto simile che permette di vedere youtube e netflix direttamente sull'auto qui con android auto sarà possibile farlo come sapete io ho un note 10 plus e normalmente io non ho non eseguo nessun tipo di root sul telefono io non ho mai seguito il root su nessuno dei telefoni che possiedo perché non lo ritengo essenzialmente opportuno per quello che faccio io col telefono il root serve ad altri sviluppatori per poter magari testare le loro applicazioni oppure installare dei launcher alternativi inserire dei kernel più aggiornati e nuovi quindi ovviamente tantissime altre cose in più che di cui io non sono a conoscenza perché appunto non ne faccio non faccio uso del root sul test sul telefono però comunque appunto fino ad oggi c'era la possibilità di sbloccare per così dire le limitazioni di google andando ad effettuare il root al telefono così da installare tantissime altre applicazioni aggiuntive appunto per esempio abbiamo youtube abbiamo anche android auto mirror che permette di effettuare un mirroring completo del telefono nel momento in cui si va ad utilizzare appunto in macchina android auto quindi dall'interfaccia di android auto si vede direttamente l'interfaccia del telefono e si può fare tutto quanto quello che vogliamo del telefono tranne vedere video per esempio netflix non è possibile vederlo perché google ne limita la visualizzazione con un codec non so spiegarvi bene il motivo però appunto è impossibile vedere i video di netflix da android auto per vari motivi che io non conosco ma che sicuramente saranno più che validi quindi ci viene in aiuto gabriele uno sviluppatore molto 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 in gamba che ha sviluppato in collaborazione con altri sviluppatori delle varie app una applicazione di riassuntiva che contiene al suo interno tutte le applicazioni che possono essere installate su android auto col root ma in questo caso non è necessario alcun root si avete capito bene android auto oggi da oggi venne 30 aprile viene definitivamente sbloccato con l'utilizzo di questa applicazione tra mediante cui si potranno andare a scaricare tutte le applicazioni in un modo particolare che vengono installate come apk sul telefono e posso e vengono lette deve effettivamente da android auto questo infatti ve lo farò vedere nella parte in auto sicuramente e potremo vedere appunto tutte le funzionalità quindi innanzitutto vi indico che lui ha un canale telegram per poter riassumere tutte le comunicazioni tutte quante le informazioni in merito a questo prodotto e infine anche ai possibili aggiornamenti che potrebbero esserci perché ad esempio google un giorno potrebbe svegliarsi modificare appunto i permessi di accesso di queste applicazioni e quindi impedire che questa applicazione possa dare l'input all'installazione delle varie app e quindi non permettere tutta una serie di cose però appunto noi ce ne freghiamo altamente perché perché possiamo quindi innanzitutto l'applicazione il canale telegram si chiama a a a di questo è il link d'invito telegram punto mi slash a a a d app d app d app d app d app appunto perché è in merito a questi aggiornamenti relativi a questa applicazione l'applicazione non verrà installata mediante il play store quindi google tramite il servizio play plot e play protect vi andrà ad dire che l'applicazione non è sicura volete installarla comunque si installa il buon gabriele che ringrazio pubblicamente in questo video per avermi fornito il anche in anteprima una versione dell'applicazione e anche la possibilità di utilizzarlo in modo completo innanzitutto va a ringraziare tutti quanti gli sviluppatori che sono inclusi nell'applicazione quindi il lavoro di questi vari sviluppatori è stato fantastico nella net senza il loro supporto è il loro sviluppo di queste app a a a d non sarebbe nulla perché appunto a a d è un raccoglitore di queste app va a fare tantissimi ringraziamenti chiede anche di contribuire alle traduzioni della varia dell'applicazione nelle varie lingue ed anche agli sviluppatori che hanno permesso questo tipo di applicazione quindi un supporto mediante crowdfunding allo staff di tutte quante le applicazioni da un suo ringraziamento e poi anche a tutti gli utenti che utilizzeranno questa applicazione perché appunto c'è stato molto lavoro in merito per poterla portare effettivamente alla luce e quindi sicuramente una donazione non farebbe male infatti per ottenere la versione pro che vi consiglio caldamente non basterà altro che pagare 3 euro e 50 è una donazione ma sono 3 euro e 50 magari voi li possedete anche come credito google play store tramite le adsense quindi non ci perderete niente a poterli supportare ad oggi l'applicazione non è ancora uscita almeno stando a questo minutaggio però appunto sarà uscirà nel corso della giornata di oggi quindi andiamo a vedere innanzitutto l'applicazione aaad vi sarà scaricata io le ho messe tutte insieme in una in una pagina così da poterle trovare più facilmente allora innanzitutto questa applicazione si chiama aaad appunto ci dice benvenuti all'interno di android auto apps download ecco che significa aaad un'abbreviazione un acronimo quindi questa utility vi aiuterà nell'installazione delle applicazioni custom di android auto per i telefoni senza root seleziona l'applicazione che vuoi installare e ispetta che questa si installi tramite appunto le indicazioni che vi fornisce a schermo la descrizione è disponibile con una pressione prolungata quindi esistono in questa applicazione tre categorie di varie applicazioni applicazioni multimediali applicazioni di mirroring e altre allora innanzitutto visto che appunto vorrei fare una disamina completa vi ecco perché quindi dividerò sicuramente questo video in due parti partiamo con car stream car stream appunto è formalmente conosciuta come youtube auto car stream è stata una delle prime applicazioni che sviluppate come applicazioni custom con un custom app sdk è nata con lo scopo principale di portare youtube ad android auto ma successivamente è diventato un è stato fornito con un browser web con molte capacità successivamente abbiamo fermata auto fermata auto è il più completo video e audio player per android auto che con ste che è costituito da un player intero con un'esperienza player intera con molte funzioni come per esempio un network streams è anche un browser web è fornito anche di un'applicazione di controllo companion che si chiama fermata control che permette di andare ad monitorare e definire modificare quelli che sono i playback delle applicazioni dei controlli sul volante della propria auto poi abbiamo a screen to auto è appunto la prima applicazione di mirroring la più completa e full feature mirroring app for android auto includes many features like a customisable launcher split screen custom screen sizes and match more quindi la più completa e più completa appunto piena di funzioni app di mirroring per android auto include molte funzioni come un launcher modificabile uno split screen poi custom screen è anche tanto altro e poi abbiamo a mirror che appunto è l'applicazione di mirroring di android auto più vecchia se si così si può dire ed è la il capo stipide di tutta la famiglia di applicazioni di questo tipo per poter fare il mirroring dello schermo sulla propria auto a stream allo stesso modo è un'alternativa e a mirror plus è un'alternativa da 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 a mirror con alcune funzioni aggiuntive poi abbiamo performance monitor questo è un'applicazione di monitoraggio delle performance basata su appunto a stats martoretos è stata sviluppata specificatamente per l'uso con le auto volkswagen skoda seat audi mb2 con appunto questo sistema mb2 ma potrebbe anche funzionare con altre auto basta che loro abbiano il supporto ad android auto e ovviamente necessita di uno strumento obd per poter funzionare quindi dovrete collegarlo alla porta obd della vostra auto e per funzionare sulle volkswagen ovviamente per ha bisogno dell'estensione bag che appunto viene scaricata in contemporanea con a con performance monitor infatti se ne clicchiamo appunto ci vorrà installare anche l'estensione per bag poi aa passenger è un'applicazione che è stata creata per permettere ai passeggeri di poter controllare alcune funzionalità in android auto richiede il che il passeggero scarichi aa passenger e anche se comunque lo stato di funzionamento al momento è sconosciuto widget for android auto semplicemente fa quello che dice appunto porta i widget in android auto e poi nav to contacts questo qua se noi clicchiamo se noi teniamo premuto per sapere cosa ci dice appunto qui ci dice che appunto google non permette di memorizzare tramite google assistant i gli indirizzi dei vari contatti quindi questo sistema lo permette appunto se noi abbiamo dei contatti con degli indirizzi salvati basterà cliccare su quel contatto e google maps poi ci darà il suo indirizzo ci porterà lì con la navigazione quindi senza dover dare vocalmente l'indirizzo ma semplicemente cliccare sul sul comando appunto del contatto allora quindi per questa video direi che è tutto perché al momento non posso utilizzare android auto però appunto ve lo farò vedere nel prossimo video e quindi per questo video è tutto non mi resta che augurarvi una buona giornata un saluto a tutti da real user one on one del contatto 4 5 5 Ben health в